Buongiorno, oggi è mercoledì 2 dicembre, la segna stampa in breve di video 33 allarmi incendio questa notte, intorno a mezzanotte ad ora per una macchina che è andata distrutta dalle fiamme, nessuno è rimasto ferito in pieno centro, nel centro abitato di Ora. Massimo Moro e Regia col sottotituto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, inceneritore, fiamme e paura, allarme per una nube maleodorante, l'app assicura nessuna emissione nociva, EDS, 14 malati, il Vescovo Muser dice bisogna accoglierli all'interno della comunità, i punti nascita, salvezza appesa alle assunzioni e poi cassa integrazione locale, c'è l'accordo, la cronaca cura del quotidiano Alto Adige, inceneritore, un altro rogo, paura per i fumi, il Presidente della provincia Compatcher dice sì c'è un problema, una notizia curiosa, pagina 38, la torta di Sissi, conservata per 118 anni, è stata tenuta intatta dal 1897, manca solo la fettina che ha consumato l'imperatrice, Alto Tesini e non azzurri, la SVP si muove e ancora il cane Artù ci ha salvati dall'incendio, la cronaca cura del quotidiano della lingua tedesca Dolomiteni, condono fiscale, si parla dell'accordo tra Selle e Agenzia delle Entrate, 35 milioni invece di 600, i dettagli a pagina 21 e a pagina 15, quello che accade negli ospedali della provincia di Bolzano dopo l'obbligo di ricepimento delle normative europee in tema di orari di lavoro, il quotidiano Tag est site, un approfondimento dedicato al divieto di mendicare nei vari comuni Alto Tesini le prese di posizione, i favorevoli e i contrari, il settimanale economico VICU, inserto del Dolomiten, si occupa del mercato del lavoro, mercato del lavoro al femminile. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.